Ehi salvella gente qui Gabby e ben ritornati sulle storie horror che sono successe davvero! Per fortuna questa volta almeno lo sto reccando di giorno così ho tempo di dimenticarmi poi quando verrà sera Però voi lo vedrete di sera questo video Mi dispiace? Intanto tengo questa torcia di Minecraft attiva non si sa mai Se la volete anche voi link in descrizione Perchè? Beh almeno quello Aiuto ma chi ve lo fa fare? E' pure freddo perché non rimanere a casa sotto le coperte La gente è scema la gente è scema io lo dico sempre io lo dico sempre Beato mai che sto sempre a casa Eh per dire per favore idioti non entrate che poi vi ammazzate All'inizio pensavo che questo fosse il cappello di Ash Ketchum Eh anche Non perdono tempo Siamo trasgressivi Eh è vero Vi avrebbero salvato la vita in questo caso Per quello che stava per succedere Ma chi si fa un bagno con un cappello in testa? Voglio saperlo Allora meritate di morire Ma anche quella vestita Vi auguro un raffreddore livello 100 Sono un delfino Perchè? L'unica intelligente Secondo me va a travestirsi da mostro Ah no non serve Eh eh è già brutta Si è unita a una nuova ragazza Una maschera di Halloween abbandonata Ma che cacchio Avrei preferito uno squalo Oh ve lo dico già Avrei preferito uno squalo Porca vacca Ok sei stata declassata Sei mostro numero due Che si fa? Stavo per morire Vi odio tutti Perché mi avete portato qui Ah morirò giovane Davvero Pikachu Le belle amiche che ti salvano nel momento del bisogno Cacchio Tutte balle Io so chi era il mostro Volete saperlo? Pula 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 Sono io ragazzi Eh ci siete cascati Eh è fatti Eh eh Sembra tantissimo Jeff the killer Cacchio Questo è Jeff the killer Ho un po' di paura Dovremmo proseguire? Siete sicuri? Sì signor Capitano Eh va bene Avanti con la prossima Questa storia è ambientata a Natale Bene Manca un bel po' a Natale Quindi c'è tempo per morire Ah Non la conosco non ci voglio andare Non la conosco non ci voglio andare Perché ho avuto lavorare La prima volta a McDonald's Ah Tu è Big Mac Please Ok Ma simpatico Sì però scusami Tu hai gli occhi più grandi di lui E' inutile che tu dici Oh gli occhi enormi Guarda i tuoi Potete fare a gara Voglio il mio panino Me l'avevi promesso Eh vabbè Era solo un cliente Che si è lamentato in anticipo E' ancora qui Però guarda non lamentare Tipo se in te io gioierei Con sto caldo Con sto caldo Vabbè Ma dai non vedi è simpatico Poi si toglie la maschera It's a me Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? No No Che? Forse vuole un altro paio di occhi Più nuovi No no Ragazzi io mi sto caccando Guarda e quando perde gli occhi Diventa un mostro incredibile Aspetta quello però Non mettermi nel panino Cacchio è successo Ma chi è sto coso? Cosa vuoi della mia vita? È Natale Dovremmo essere tutti più buoni Ma che razza di roba è? Io non avrei mai potuto fare YouTube Sarebbe stato un trauma incredibile Io non posso credere a questa storia Rivediamo la scena più bella Almeno ti sei pulito Io sarei rimasto con il vomito Tutta la notte sudato Gli ha dato anche un nome Pampara È sempre così Così morirai male Tutti e quattro Massacro di Natale È perché dormi troppo A Natale non si dorme Si spacchetta epico Spacchettamento epico Regali Wow Bravo Tienigli al sicuro Oh no Queste faranno scappare anche il mostro Poverino Tutte le sfige a lui Ancora Quindi dopo sono sparite tutte Eh vabbè Le ha fatte sparire lui Si è mangiato le sorelle Ringrazio Vabbè Per un attimo Vi ricordo qualcuno? È Ryuk Bebri Anche se non Anche loro l'hanno visto Anche loro l'hanno visto Cosa? Vabbè Gli ha fatto il marchio Il marchio della bestia Sì va bene Hai vomitato un altro mostro Sei tu Sei tu il mostro Mi fa più paura lui Questa è tutta una scusa Io so com'è andata Praticamente le sue sorelle cantavano così tanto Che lui si è rotto le scatole Ha preso i coltelli Ha iniziato a giocare sfiorando le sorelle E si è fatto un taglietto E papà ha fatto bene a picchiarti male Papà ha fatto bene Che te ne tiri quattro mannaggia a te Bella storia Sì sì Tra l'altro il mostro ha gli occhi grandi Lui ha gli occhi grandi A chi volete darla a bere Doppia personalità Ma porca vacca Ma siete alla fame Cioè ora ho capito perché avete le visioni Se mangiate così poco A parte tu Che ti freghi tutto Questa è spaventosa Avete visto Ve l'ho detto Doppia personalità Ora ho capito Allora non è la casa No e vabbè Adesso fa fuori la famiglia Nooo Il mio tesoro Cacchio ma questo è diventato un serial killer Mettetelo in prigione per favore Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Cioè avete capito Lui Secondo me aveva Ste visioni Del tizio Perché era nella sua testa Lo vedeva solo lui Era lui che ha preso i coltelli E ha iniziato a sanguinare Come un pazzo Non lo so forse Uno spirito si è impossessato di lui Tipo l'esorcista Roba così E ha iniziato a fare ste robe Oppure aveva più semplicemente Dei problemi mentali Molto grandi Tanto grandi Quanto si ha occhi Quando fumi troppe sigarette Ma che bello Passare quest'estate Sudando freddo Ragazzi Ma allora che ne pensate Di queste storie Ci credete Cosa può essere A volte devo ammettere Che in questa terra Succedono delle cose strane Anche a me sono successe Alcune cose un po' strane Devo dire Durante il corso della mia vita A cui non posso dare spiegazione Ma questa È un'altra storia Non vorrei Impressionarvi troppo Un giorno magari Ve la racconterò Ma per ora Rimanete con la curiosità E continuate a guardare i miei video Non si sa mai Un giorno potrei Svelare I miei segreti più oscuri Per il resto ragazzi Vi ringrazio per la visione In questo video Lasciate un like Se volete vedere altri episodi Attivate la campanellina Altrimenti il mostro Potrebbe visitarvi stasera E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao ragazzi